Quindi inizio con la votazione del Presidente Matteo Orfini sulle deleghe. Vi chiedo un po' di esercizio fisico, di stare un po' con le deleghe alzate perché stanno provvedendo a contare. Forse sarebbe meglio. Facciamo quello contrario. Astenuti? Con 60 astenuti, 16 contrari, tutto il resto favorevole, è stato eletto Matteo Orfini. Adesso vi chiedo di votare sia Barbara Pollastrini che Domenico De Santis. Alzate le deleghe. Facciamo come prima, contrari e astenuti, così almeno è più facile. Contrari? 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 Astenuti? Allora, con un contrario, 10 astenuti e tutto il resto favorevole, sono stati eletti i Vice Presidenti. Vi dicono anche che facciamo la lezione del tesoriere. Giunta la proposta di Francesco Bonifazzi, l'unico che si poteva assumere di nuovo questo incarico, che ha la nostra solidarietà. Chi è favorevole? Vota. Gli astenuti? Nessun contrario, quindi con 11 astenuti e tutto il resto favorevole, Francesco Bonifazzi, tesoriere. Buona assemblea a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.